La Mongolia è una regione che si trova a nord-est della Cina e un tempo veniva chiamata la terra dei pascoli felici perché c'erano tantissime praterie molto fertili su cui pascolavano liberamente i cavalli e i cavalli appartenevano alla popolazione che viveva in quei luoghi, gli unni. La vita degli uni era strettamente legata a quelle praterie che fornivano il cibo per i cavalli e per tutti gli altri animali domestici. Quando la terra però su cui dimoravano diventava arida o per un qualsiasi altro motivo non produceva più abbastanza cibo per tutti, gli unni prendevano le loro case e si spostavano letteralmente perché abitavano in tende che potevano essere montate su grandi carri e poi trainati da coppie di buoi. Gli uni erano originari dalla Siberia. La Siberia è una terra che si trova all'estremo nord dell'Europa, non conoscevano la scrittura e parlavano una lingua molto simile a quella che oggi si parla in Turchia. Erano divisi in clan, cioè in pratica in grandi gruppi familiari che considerati tutti insieme formavano la tribù degli uni. Poi ovviamente c'erano dei clan familiari più importanti, dei clan meno importanti. Le donne erano molto considerate e ascoltate quando c'erano da prendere delle decisioni importanti. Spesso gli uomini sposavano diverse mogli. Gli uni erano un popolo nomade che non praticava l'agricoltura e non praticava neanche il commercio con gli altri popoli. Addirittura non conoscevano la moneta. Come facevano allora a procurarsi tutto il necessario per vivere? Beh, per quanto riguarda il cibo andavano a caccia, erano bravissimi, erano dei cavalieri molto abili. La loro arma preferita era l'arco che sapevano utilizzare perfettamente anche quando erano lanciati al galoppo e questo grazie alla staffa che permetteva loro di rimanere ben saldi in groppa al cavallo ma nello stesso tempo di avere le mani libere. Questo va bene per la caccia. E per tutti gli altri prodotti necessari per vivere? Allora gli uni conoscevano quattro modi per procurarsi il necessario. Allora c'era il baratto, cioè lo scambio di oggetti, che però gli uni non amavano molto perché non erano bravi, spesso si facevano imbrogliare. Preferivano di gran lunga la razzia, cioè in pratica l'attacco improvviso a un villaggio dal quale poi con la violenza prelevavano tutto quello di cui avevano bisogno. Poi c'era il tributo. Il tributo era una sorta di tassa che il villaggio sconfitto pagava ogni anno e pagava dando agli uni beni e materie di cui avevano bisogno. Infine c'era lo scambio di uni, che però era qualcosa di leggermente diverso perché era uno scambio spesso tra persone di pari dignità. Serviva a sancire delle alleanze o a stringere dei patti. Da questo piccolo panorama avrai capito che di tutto gli uni preferivano largamente la guerra, al punto che ogni anno verso la primavera eleggevano un capo di guerra e si lanciavano all'attacco di una popolazione nemica per rapinarla di beni e di uomini, uomini che poi avrebbero fatto diventare loro schiavi.